io ho già spiegato azione bellissima questa volta la voce ok perfetto un bel sorriso ok guarda pure noi perfetto come prima mettila sotto un braccio dritto davanti a te qualche secondo ancora ok motore azione stop azione stop ecco frega di lato qui sono vabbè teniamole tutte e due dai teniamole tutte e due qui è un bel sorriso è un bel sorriso che è un bel sorriso